Salve a tutti, oggi voglio parlarvi del Brill. Il Brill è un materiale sintetico che si differenzia dal cactus perché è più rato e ha le fibre realizzate intrecciandole su un'anima molto più sottile. Questo ne consente l'utilizzo su artificiali anche di medio piccole dimensioni senza inspessire troppo il corpo dell'artificiale. Il vantaggio ulteriore del Brill se vogliamo è di avere una fibra cucita sull'anima che rispetto alla cactus impedisce alle fibre di disperdersi e quindi anche quando tagliamo con le forbici una parte del materiale le fibre rimarranno comunque intatte e attaccate all'interno dell'anima stessa. È un materiale molto brillante che può essere utilizzato sia per la realizzazione di toraci che di addomi e anche per dei piccoli streamer. Vado ora a mostrarvi la realizzazione di una ninfa fatta proprio sfruttando al meglio le potenzialità del Brill. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Come avete visto l'effetto che può dare il Brill all'artificiale è davvero molto bello ed è davvero di facile utilizzo. Lo trovate disponibile sul sito www.textreme.it Vi invito come sempre a postare i vostri artificiali sui vari social Instagram, Facebook, eccetera e utilizzare magari l'hashtag textreme e textreme addict per vedere e postate le vostre imitazioni magari sulla pagina ufficiale di textreme.